Servo aiuto? No, 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 grazie. Io non ci credo. Marco! Che fai? Ti ricredi? Acquista uno dei prodotti che partecipano al concorso. E poi scegli. Se non ci credi, ricevi subito un buon acquisto fino al 40% del valore del prodotto. Se ci credi e vince l'Italia, il 100%. Marco! Oh, ciao! Mi hanno detto che hanno convocato anche te. Tu serio? Se credici. Grazie.